facciamo un'anteprima un'anteprima perchè stasera poi ci sono le luci numero due ma è numero due a visse sud questa sera stiamo facendo le prove venitevi a iscrivere avete ancora tempo penso che hanno ancora tempo di iscriversi e fino a stasera iniziamo le 21 e 30 va bene 21 e 30 4 numero 4 velocizzo un po' perchè devi iniziare la missa scusa questa te lo vogliamo è inizia la missa perchè siccome lo possiamo fai 5 numero 5 numero 5 velocizziamo un attimo perchè devi iniziare la missa si 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 inizia la missa pista e cosa è inizia la missa